A tutti buonasera dal Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori. Benvenuti all'appuntamento del venerdì con le previsioni del tempo per il fine settimana. Però vediamo come di consueto il tempo fino ad oggi, ma in particolare come si è chiuso il mese di ottobre. In questo mese abbiamo avuto 11 giorni con cielo sereno poco nuvoloso, 11 giornate variabili e 9 giorni con cielo molto nuvoloso o coperto. Le piogge che sono cadute sono state quasi nella media con un totale di 139,8 mm e un valore atteso di 164,2. Il valore medio è calcolato con i dati dagli ultimi 55 anni da quando iniziano le registrazioni del Centro Geofisico Prealpino. Abbiamo un deficit molto importante a partire dall'inizio dell'anno di pioggia che è pari a meno 609 mm. Le temperature invece del mese di ottobre sono state temperature record, nel senso che negli ultimi 55 anni questo risulta il mese di ottobre più caldo. Una media di 16 gradi contro un valore atteso di 12,7, 3,3 gradi in più rispetto al previsto. La temperatura massima registrata durante il mese sono stati 23 gradi registrata il 3 ottobre del 2022, mentre il record per Varese è 28,5 gradi registrati l'11 ottobre del 2011. La temperatura più bassa invece è 9,5 gradi, valore registrato il primo di ottobre. Resta per Varese il record di temperatura minima è di meno 2,5 gradi registrato il 29 ottobre del 1997. Per quel che riguarda il mese di novembre dobbiamo attenderci una temperatura media di 7,3 gradi, 11 giornate con sole, 11 giornate con piogge e un totale di circa 168 mm di pioggia. Veniamo adesso però all'immagine ripresa dal satellite meteo stata da una distanza di 36 mila chilometri dalla superficie terrestre. L'immagine ripresa oggi alle ore 12 evidenzia la perturbazione responsabile delle piogge di ieri che si allontana verso l'Italia sud. Abbiamo contemporaneamente l'alta pressione che si trova sull'Atlantico ma si trova anche sull'Europa nord-orientale che va rinforzandosi e si rinforzerà ulteriormente nei prossimi giorni portando a una nuova fase di stabilità atmosferica. Veniamo alla carta di previsione per domani sabato alle ore 14. Qua sono riportate le esobere linee che uniscono punti di uguale pressione atmosferica. Troviamo l'anticiclone sull'Atlantico con 1025 etto pascal, un altro massimo lo troviamo sull'Europa nord-orientale con un massimo di 1025 e troviamo invece sulle nostre regioni un'area di alta pressione con massimo 1020. Troviamo poi due basse pressioni, una è quella che si sta allontanando verso l'Egeo con un minimo 1000 etto pascala che porterà mal tempo nel fine settimana sull'Italia meridionale e un'altra invece la troviamo sul nord-Atlantico e al momento le perturbazioni collegate a questa bassa pressione scorreranno a latitudini più elevate. Veniamo adesso alle previsioni del tempo dal momento in cui vi sto parlando. La serata di venerdì con condizioni di cielo poco nuvoloso, spesso sereno, qualche banco di nebbia sulla bassa padana. Nel corso della notte avremo ingresso del vento da nord che sarà forte sulla fascia alpina. La giornata di domani sabato, una giornata con cielo generalmente sereno con solo passaggio di nubi alte, ancora vento molto forte che andrà a esaurirsi nel corso della serata, vento particolarmente forte in montagna e favogno in area pedemontana con locale aumento delle temperature. Le massime infatti sono comprese tra 15 e 18 gradi, le minime tra 6 e 9 gradi. La giornata di domenica sarà sempre una giornata in buona parte soleggiata, avremo il passaggio di nubi alte a tratti soprattutto nel pomeriggio. Le temperature si abbassano, le massime sono comprese tra 12 e 15 gradi, le minime tra 4 e 7 gradi. Primi giorni della prossima settimana lunedì e martedì saranno delle giornate ancora in buona parte soleggiate con a tratti però passaggio di nubi alte o di velature. Le temperature restano senza variazioni e sono leggermente ancora al di sopra delle miglie del periodo. La giornata di mercoledì invece dovrebbe vedere dei passaggi nuvolosi estesi, quindi un cielo molto nuvoloso ma probabilmente asciutto. Con questo è tutto, ho concluso, vi saluto, vi auguro buona serata, buon weekend e ci rivediamo la prossima settimana.